Visita oggi il mio nuovo store online www.xuder.it Tante magliette, felpe, prodotti stagionali e ad edizione limitata www.xuder.it mi raccomando e ovviamente codice creator XIUDERONE E adesso video! Andiamo? Che le pare il piccone con sta skin? Bello! Immagini con che codice l'ho shoppato? Io le auguro XIUDERONE, brutal! Se provo a dire un'altra cosa, brutal, no vai a fare in c***o, brutale! Dove le mando la foto su Insta? No, io, brutal, brutale! Adesso c'è una nuova regola, se brutal fa i regali comunque non gioca, perché sei ancora vivo, figa, perché? Tu, muori qua! Non lo so neanche io, vai! Quindi mi butto? Riusciti da T-Brutal, devo solo ressarti, non devo fare altro. Ok, 17.000 punti e questa partita mi porta a livello 176. Comunque si trovi un cecchino, mi avvisi che c'ho il coso per fare... No, 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 innanzitutto tu non mi parli così, trova un cecchino. Ho detto sempre detto. Ho detto se trovi, mi sembra che abbiamo mai cenato insieme, non si permetta mai più. Loro i diritti di Warner Bros. non ce li hanno. Buon figlio. Porco cazzo, porco cazzo, porco cazzo, porco cazzo, il cazzo è il bruuuunto, anche caffa. Brudello, brutto mazzo, brutto mazzo, brutto mazzo, BUR batcho, brutto mazzo, è un maizardo. No. T-T-T, VTO back, brutto mazzo, brutto mazzo, brutto mazzo, brutto mazzo, cosa, caffa? B parameters, brutto mazzo, brutto mazzo, promotes, brutto mazzo, cosa, caffk? Cafocco qua. Ti odio brutto, chi Adio? perché è il fatto che io abbia tipo 40 colpigliere potrebbe essere un problema ma io ne ho 50 ci stanno sparando c'è una macchina brutta al spara qui a sinistra fatti il pazzo alleluia è andato è andato avanti 32 ma io sono in safe bravo perché sono porca troppo la presa e l'ha ucciso le pare che se dico uno dai dai brutto dai brutto dai brutto dai bravo 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 la fuga gli ho distrutti chiuderezza puttana se vi ho strombazzata tutti e due figa gli ho lasciato un centile spam di carriola vai a fare il brutale vai a fare perché hai fatto due colpi e ammazzati ho fatto il giro brutale 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 mio dio quando fai così mi fai incazzare avrei buttato non avrei buttato che si non avevi sentito si gli ho distrutti brutale potenza 5 a 3 3 cerrato vai 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 mentre su e su e mi vedi sali al volo e ti prego non farti mai sali qua arrivo andiamo dove c'è dove c'è brutale 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 ma dove c***o devo andare destra e se cristo piga parca brutale dove c***o sono dietro quasi io ho visti gli ho visti gli ho visti sono la brutale quello bianco e bianco ma mi fa male la faccia brutale buongiorno 25 white o ma basta ma è sempre white quello sono davanti a noi si io mi sto cura ciao arrivo brutale mi sto continuando a pedazzare non posso fare nulla brutale 116 morto 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 non c'ho mazza non mi chiudono mazza apri 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 abbiamo uscire dobbiamo uscire come dovremmo uscire si parte la safe ce la faccio non ce la faccio brutale io riesco a gestire brutale tu veramente pensi che gli stia ascoltando lineatura non capisco nulla non capisco non colpire ma ti ho detto che ne ho 50 buona giornata a parte non avevo sentito la cina che fa l'occhiolino faccina che fa l'occhiolino e al rivederci fanti bravo 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 brutal 150 metri sto arrivando bravo era da solo ok nice gente che scende da dire gente che scende da dove dalla casa era di nike sono scesi vedo voglio prendere questo tutto assolutamente o che lo spottano fa niente era un lutto troppo importante da prendere se si dice che siamo stiamo andando io vado è no 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 stiamo andando i mazzi e no c'è pochi mazzi cosa vogliamo fare devi farmare brutto bisognerebbe anche provare una shot bello che provo io col cecchino c'ho il cecco leggendario e ciò la railgun si ma se non farmi c'è neanche l'oro mi fa armare occhio occhio non ho avuto avanti che altrimenti andiamo no si ma fatto solo 116 bisogna dare un headshot si imboscono si imboscono vieni 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 è ma certo per avanti potremmo andare a prenderlo al frugoncino vedi questi bello quello che l'ho preso 8 vengono le cecchinate siamo godi siamo godi all'alieno l'alieno occhio certo che ne faccio sì no ma va bene anche che mi prende easy si lasciate tutto ok non li vedo sono dentro ma no ma aspetta un attimo piano piano faccio mincino lelli 07 si è fatto mesi bella scena push ali 2 sta voce veramente che cosa a me mi sparo a terra pittore forse sono sopra dentro la casa della casa cosa 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 brutal brutal è successo vieni ha fatti questo che ha dieci di vita prima che occhio di tutto e resta non ci cre ma sono un po nella tantissimo che confermati calmo non uscire che poi apri mi curo mi curo c'è fuori molto attento a uscire bravo bravo bello così qua c'è uno scarco c'è uno scar tu hai già lo spaz se giardario se lo prendo anche ma ma sia sono molto messo molto bene io non mi faccio uscire ok poi lo scelto fate pure i medici perché oggi si fatto medici buono non so mi piaceva dei medici fatti i medici 75 di vita ok sto qua dietro è qui c'è il tac no però è pensando anch'io dai tu vai con lo spazio ma dai andiamo a questo spazio leggendaro 2 forse no sono qua perché vedi passo schermo e aspetta una mossa forza loro sopra da me morto uno ok il lato la troppa sotto 2 di uno con calma con calma con calma faccio scendino rompiamogli il culo qua sopra vediamo quanto pensa di salire ancora questo 102 non lo vedo più arriva arriva let's go easy easy